Ci troviamo in via Loppio, proponiamo questo immobile completamente ristrutturato. L'impianto di riscaldamento è autonomo, come potete vedere l'immobile è stato completamente ristrutturato. Nelle sue parti questa è la prima camera, gli infissi sono i PVC di ultima generazione. Quindi usciamo dalla camera, ci dirigiamo verso il corridoio. Alla nostra destra abbiamo la luminosissima cucina, lì c'è la calderina per quanto concerne il discorso appunto del riscaldamento autonomo. Come potete vedere gli graditori sono in alluminio. Usciamo dalla cucina, le porte sono nuove. Questa è la seconda camera, anche essa luminosa e spaziosa. Dopodiché abbiamo il bagno. Quindi ripiloghiamo, abbiamo il corridoio, la cucina, la camera, la seconda camera. E infine abbiamo l'ingresso. Ci troviamo in via Bobbio.